ciao a tutti amici amiche benvenuti o bentornati sul mio canale siamo qui per parlare di un nuovo album metal nello specifico siamo qui per parlare del nuovo album degli obituari pochissime parole per presentare questa band parliamo di una delle band più significative e potremmo anche dire leggendari del death metal proprio a livello mondiale parliamo proprio di chi in un certo senso ha inventato il death metal assieme ad altri nomi come morbid angel death possessed e via dicendo e quindi stiamo parlando una band fondamentale questo album esce a sei anni dal precedente album intitolato obituari e adesso il nuovo album si chiama dying of everything dying of everything è un album che sostanzialmente sa di casa quando lo metterete nel lettore se amate gli obituari secondo me non potrete fare a meno di amare anche questo album quindi credo che la mia idea di non portare recensioni che facciano dei track by track ma sostanzialmente delle recensioni discorsive come se io dovessi dire a un amico cosa ne penso di un album in questo caso potrebbe essere applicata ancora maggiormente perché questo dying of everything sin dalla copertina sin dal logo e sin dalla prima canzone barely alive ci riporta e in quelle che sono le sonorità puramente death metal degli obituari quindi i loro elementi il loro death metal che deve molto alla vecchia scuola degli anni 80 e quindi ai precursori come ad esempio i celtic frost beh in questo album ci sono tutte queste influenze se devo essere onesto in questi 45 minuti circa in questi tre quarti d'ora a parte il trovare gli obituari che da sempre conosciamo ho trovato un buon se non ottimo riffing che mi è sembrato che più spesso andasse su parti stoppate rispetto magari a qualche prova più recente della band quindi abbiamo delle canzoni sparate con questa con questa chitarra che ricalca il sound appunto dei già menzionati celtic frost con riff diciamo aperti e poi abbiamo questi rallentamenti con queste chitarre belle rocciose belle stoppate che rimandano soprattutto al trash metal è già uscita qualche recensione c'è chi dice che è un album noioso c'è chi dice che è un album stratosferico secondo me bisognerebbe stare nel mezzo e capire che gli obituari esistono dalla fine degli anni 80 e come tante altre band le cartucce migliori le hanno sparate quando erano più giovani quindi nei primi album ma io non ho mai sostanzialmente ascoltato un disco brutto degli obituari se io vado a ripercorrere la carriera degli obituari e vado a pescare alcuni dischi come darkest day inked in blood piuttosto che frozen in time executioners return non riesco a capire come ad alcuni questi dischi non siano piaciuti ma il non piacere può anche starci non riesco a capire piuttosto il concetto di mi piacciono gli obituari ma non mi sono piaciuti con gli album soprattutto non lo riesco a capire nel caso degli obituari perché gli obituari non hanno sostanzialmente mai cambiato nulla nel proprio sound hanno sempre proposto la stessa formula nel caso degli obituari forse è successo un qualcosa di ancora diverso nel senso che loro si sono evoluti fino al terzo quarto album poi si sono fossilizzati su quella formula e forse su qualche album successivo sono regrediti nel senso che hanno semplificato alcune cose che magari erano state sviluppate a partire da the end complete in poi che poi se stiamo a vedere gli album tra virgolette dell'evoluzione degli obituari sono cause of death the end complete e world demise dopodiché già con back from the dead l'evoluzione è andata a farsi friggere ecco quindi gli obituari sono gli stessi da praticamente 30 anni ed è questo che non riesco a capire come non non come certi dischi possono far schifo a un fan degli obituari e piuttosto potremmo ipotizzare che ti possono non piacere dei dischi degli obituari successivi a quelli che ho nominato se sei un fan solo di quei tre dischi dei primi tre o quattro dischi anzi facciamo dei primi tre no perché già world demise è un'altra cosa se sei un fan dei primi tre i dischi degli obituari allora ci può stare che non ti piacciono quelli successivi se sei un fan degli obituari in generale da almeno 20 30 anni ti devono piacere anche quelli dopo comunque questo dying of everything ci consegna degli obituari a mio avviso in forma sicuramente più in forma rispetto ad alcuni capitoli che sono usciti più o meno tra il 2005 e il 2015 circa donald tardi alla batteria è una garanzia mi piace perché un batterista molto solido che vada alle cose concrete non si lascia andare in ipertecnicismi ma è veramente efficace col suo drumming molto peculiare che certi hanno anche definito legnoso ma che a mio avviso è un drumming più quasi da 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 hardcore che da death metaller però questo ha reso il sound degli obituari quello che è abbiamo poi sicuramente dei riff di chitarra ispirati trevor peres fa un ottimo lavoro come anche john tardi alla voce offre la sua prova sempre convincente perché devo dire che non non riesco a trovare album degli obituari dove john tardi abbia cantato male la sezione ritmica appunto come diceva di donald tardi che si va ad aggiungere a terry butler al basso secondo me forma un muro di suono effettivamente impressionante all'altra chitarra abbiamo kenny andrews che secondo me ha fatto assieme all'altro chitarrista trevor peres un lavoro egregio sia in sede ritmica che in sede solista questo qui è un album solido è un album che se dovessi recensire e aspettatevi comunque la recensione sul mio sito heavy metal maniac punto it non so se la farò io o un altro comunque è un album degli obituari che ho apprezzato molto devo dire che l'ho apprezzato probabilmente più del precedente obituari e anche di inked in blood e quindi non rimane nient'altro da fare che ascoltarlo ed essere contenti che questi ragazzi oramai diciamo ultra 50 anni siano ancora qui a regalarci dell'ottima musica perché ripeto non riesco proprio a capire alcune critiche io non le riesco a capire se voglio ascoltare qualcosa di diverso nel death metal ben venga lo faccio con gruppi come archspire piuttosto che altri se voglio ascoltare del death metal vecchia scuola rimetto volentieri su un album degli obitori e in questo caso rimetto sicuramente su con molto piacere questo dying of everything fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate vi ringrazio lasciato un like iscrivetevi se vi se vi se insomma vi piacciono i contenuti che io porto e al prossimo video ciao ciao